ciao a tutte buongiorno bentornati sul canale iniziamo con questo base glossy balm di kiko nella colorazione cento nonché l'unica disponibile questo è uno di quei balsami per le labbra che cambiano colore a seconda del ph è di base rosato è molto gradevole sulle labbra e lo trovo anche molto idratante oggi ho rimesso in pista la palette di huda beauty move obsession credo tra le prime palette da nove colori di huda sicuramente la mia primissima in assoluto palette di huda questi ombretti non hanno un nome quindi ve li mostro semplicemente così questo è un make up appunto sui toni del malva che avevo tanta voglia di fare ed è un make up diciamo abbastanza leggero avete visto che ho applicato uno dei colori shimmer cominciamo con gli errori con il polpastrello poi sono andata a sfumarlo con appunto un pennello da sfumatura mentre guardavo e ascoltavo la mickey michela di maio come sempre va da intensificare l'angolo esterno dell'occhio con uno dei prugna molto scuri di questa palette questa è una palette che a me piace moltissimo è veramente molto molto bella e tra l'altro questa è una gamma colori diciamo per me zona di comfort con cui mi vedo bene e so anche che insomma mi sta bene mi vedo bene perché effettivamente mi sta bene a volte capita di vedersi bene con colori con cui gli altri ci dicono invece di non essere proprio al massimo della nostra resa e invece con questo tipo di di shades ho sempre trovato il l'accordo di tutti ho dovuto tagliare l'applicazione del correttore perché era entrato già luca e mutande e non ricordo più che correttore avessi messo ma fa uguale il fondotinta invece è un fondotinta uscito qualche anno fa di il san loran ed è il touche cla all in one glow foundation che io ho nella colorazione 10 avevo sbagliato all'epoca colorazione infatti l'ho utilizzato pochissimo perché effettivamente mi va a sbiancare un po però diciamo che con le polveri giuste si riesce a sistemare la situazione è un fondotinta molto confortevole che non va a appesantire la pelle perché appunto ha un effetto glow si stende molto bene e devo dire sono contenta di averlo rimesso in pista perché mi piace come sempre ultimamente quando ho fretta utilizzo soltanto un prodotto come questo in particolare questo è il gimme brow numero 5 di benefit che io ho da tantissimo veramente tantissimo tempo ma come vedete per forma ancora alla grandissima utilizzo prodotti così questo qui è quello di astra sono gli unici due che possiedo fatti in questo modo cioè fondamentalmente dei mascara per sopracciglia perché quando ho fretta diciamo che mi trovo bene così ripesco un mascara neve cosmetics ancora cioè non ancora ma non l'utilizzavo veramente da da molto tempo diciamo che questo è stato un po' una scoperta in questo 2020 mi sembra che sia uscito quest'anno ad ogni modo è un mascara che mi è piaciuto da subito e continua a piacermi questo invece un moon shadow di kiko di un'edizione limitata forse una che aveva qualcosa che fare con le sirene con il mare con l'oceano non lo so sa di fatto che ho due stick di questo ombretto ed è un ombretto effetto fresco ed è vero ragazza perché quando si applica la texture sulla pelle da proprio un effetto fresco non so come sia possibile quale sia l'ingrediente che da questo effetto però al di là del fatto che a me non disturba affatto anzi piace e anche molto performante e durevole nel tempo questa è una terra per il viso di kiko di chissà quale edizione limitata ha veramente tantissimo non lo so avrà quattro anni questa terra non la usavo da tanto ma come potete vedere è assolutamente performante come nulla fosse come se fosse appena applicata e appena acquistata scusate e visto che non ero preparata tanta pigmentazione adesso vado ad aggiustare e vado a schiarire con questa cipria che mi piace tantissimo di mulac che è la sealed deal yellow ed è la cipria libera appunto nella colorazione giallina mi piace moltissimo il packaging di questa cipria è comodissima perché ha questo tappo che non si stacca e questo puff comodissimo si fa diciamo tutto in uno ho ripescato per le guance la sweetie pie di too faced sempre dell'edizione pescata questo è un radiant matte bronzer infused with peach and sweet fig cream insomma diciamo che è un prodotto meraviglioso con questo mix di colorazioni veramente piacevole e questa è una matita labbra di Estée Lauder che non usavo veramente da tantissimo tempo smac ed è la numero 12 o 13 chocolate non lo so forse chocolate e dicevo non la usavo veramente da tantissimo tempo ma è una matita super scrivente super morbida ma allo stesso tempo super performante mi piace moltissimo e l'ho scelta perché tra poco andrò ad applicare uno dei rossetti liquidi a lunga tenuta di Kat Von D questa è della vecchia Kat Von D ed è nello specifico Sanctuary anche questo non lo usavo da tantissimo tempo è un color cioccolato al latte secondo me veramente meraviglioso che per un effetto forse non so avrei dovuto usarlo per Halloween ma in realtà non è così esagerato perché non è un color sangue è proprio un color cioccolato che mi piace tantissimo una bella spazzolata con questa spazzolina che avrò pagato 4-5 euro da Klairs quando ancora c'era una vita una vita normale su questo pianeta è una spazzolina comodissima e questo è il risultato finale come vedete il make up sugli occhi è veramente bello e luminoso ma anche abbastanza leggero sicuramente il make up occhi è un make up da giorno le labbra forse un po' meno ma che volete farci vi mando un saluto grandissimo come sempre vi aspetto nei commenti e noi ci vediamo e ci sentiamo al prossimo video ciao